Adesso è ufficiale Maurizio Di Giosia, il nuovo direttore generale dell'ASL di Teramo. L'ufficialità è arrivata ieri, lei oggi però è ancora direttore facente funzioni perché devono essere espletate tutte le pratiche burocratiche. Sì, adesso sono in attesa che la Regione mi comunica ufficialmente, io dopo devo depositare alcuni documenti, dopo di che si andrà la firma con gli obiettivi che mi verranno conferiti dalla Regione. Con l'occasione anzi per ringraziare il Presidente Marsiglio, tutta la Giunta che mi ha voluto, l'assessore della Sanità che hanno creduto in me, mi hanno dato la fiducia e tutte quelle forze politiche che mi sono state vicino, sostenute, incoraggiato verso questo incarico. Lei è stato il direttore amministrativo quando era direttore generale Roberto Fagnano, poi è diventato direttore facente funzioni e tra qualche giorno ufficialmente diventerà direttore generale di questa azienda sanitaria che lei tra l'altro conosce benissimo perché ci ha lavorato per tanti anni. Diciamo che l'ASL di Teramo è nelle sue mani, tra virgolette, oramai da diversi anni. Sì, io sono entrato nell'ASL il primo aprile dell'89, il pesce d'aprile dell'89, sono entrato qui, sono 31 anni che ci lavoro, ho fatto tutto il percorso da collaboratore amministrativo, WOS affari economici, WOL dopo responsabile personale della ragioneria, direttore del capo dipartimento amministrativo, direttore amministrativo, facendo funzioni, quindi ho fatto tutta la gavetta. Devo dire grazie, questa mia nomina la voglio dedicare a Roberto Fagnano perché lui è stato il mio maestro, lui è stato quello che ha creduto in me. Noi direttore ricordiamo le sue lacrime nel momento in cui Roberto Fagnano diversi anni fa annunciò l'incarico da direttore amministrativo per Maurizio e Giosia. Era un'occasione pubblica, lei non se l'aspettava e pianse. Adesso questa nomina era solo una questione di formalità perché il suo nome era quasi certo oramai da giorni, ma quando le è arrivata la notizia ufficiale ha pianto anche in questa situazione? Ero solo e ho pianto, ho sfogato con le mie lacrime. Che sanità vede per questo territorio il nuovo direttore generale dell'ASL? Vedo una sanità, le ho detto di potenziare la sanità pubblica, tutti gli effetti, sono fermamente convinto della necessità di un nuovo ospedale, quello che è accaduto ha dimostrato tutta l'inefficienza del Mazzini, anche se noi abbiamo fatto di tutto per renderlo idoneo all'emergenza che si era venuta a creare e noi dobbiamo prodigarci affinché riusciamo a dotare la nostra popolazione di un ospedale tecnologico, di un ospedale super tecnologico, di un ospedale per acuti. Dunque direttore, il nuovo ospedale è la priorità? Sì, le dicevo, come ho appena detto, l'ospedale è la priorità, ma la priorità è anche il territorio. Dobbiamo potenziare l'attività sul territorio perché si è dimostrata vincente, bisogna stare molto vicini alle categorie più deboli, alle persone che hanno veramente bisogno e che sono a casa perché la popolazione diventa sempre più anziana e qui sono sempre più cronici e quindi noi nel futuro dobbiamo guardare a questi, ecco perché dicevo che necessitiamo di un ospedale per acuti perché tutto il resto dobbiamo farlo nel territorio.